Malattie rare tra diagnosi e presa in carico è il titolo del convegno organizzato sabato mattina nella sede ASMA di via Montescaglioso a Matera. L'incontro si è proposto un obiettivo importante, quello di fornire un quadro aggiornato e dettagliato sulla gestione delle malattie rare, con un focus specifico sulla regione basilicata e in particolare nella provincia di Matera. L'iniziativa è stata promossa dall'azienda sanitaria locale di Matera in collaborazione con l'associazione Gianfranco Lupo e il punto informativo malattie rare tiziana statile, con l'obiettivo di aggiornare e formare il personale medico e sanitario coinvolto nelle diagnosi e gestione di queste patologie complesse e spesso poco conosciute. Lo sportello malattie rare dell'asilo di Matera è attivo dal 2018 con una prima delibera che istituiva appunto in convenzione con l'azienda sanitaria. È uno sportello dedicato alle persone con malattie rare che dopo la diagnosi avvertono il bisogno di capire un percorso sia per il riconoscimento, sia per i presidi, sia per il codice di esenzione ed eventualmente anche dei centri specialistici. Il nostro punto informativo è un punto di riferimento per tutti i comuni dell'asma e quindi noi siamo a disposizione per avviare i percorsi di coloro che sono in difficoltà, di tutte le famiglie con bambini con malattie rare e di tutti i malati rari. Oggi c'è stato un grande evento, questo di mettere un po' a punto questa patologia che comunque è una patologia sempre in via di riconoscimento dal punto di vista clinico e anche assistenziale. Il nostro obiettivo è quello di creare dei nuovi setting assistenziali perché il paziente, come ci siamo resi già conto, ha un decorso cronico e quindi la cosa più importante è quello che noi sul territorio dobbiamo fare in rete. Oggi si realizza una fase di questo progetto che consiste nella formazione e informazione dei medici e del personale sanitario in genere e dei pediatri di libera scelta.